La città di Agropoli parteciperà con un proprio stand alla dodicesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum, in programma dal 14 al 17 novembre a Capaccio Pestum. La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum, afferma il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, costituisce una importante vetrina per presentare all'ampia platea di frequentatori, tra buyer nazionali ed esteri, operatori turistici e semplici visitatori, le nostre bellizze, i nostri attrattori rappresentati dal Castello Angioino Aragonese, del Palazzo Civico delle Arti, con il suo museo, l'ex fornace esempio di archeologia industriale, per la quale si stanno completando gli arredi interni per destinarla a polo culturale, cattureranno certamente l'attenzione dell'utenza, un'opportunità per farci conoscere e mostrare al pubblico i tesori di Agropoli. Ho invitato personalmente gli operatori turistici della nostra città a prendere parte alla manifestazione all'interno del nostro stand, al fine di presentare la propria offerta turistica. Gli operatori turistici potranno prendere parte anche al workshop in programma sabato 16 novembre, con i buyer esteri selezionati dall'ENIT provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Oltre ai buyer nazionali e tour operator, specialisti nel turismo archeologico con destinazione Italia. La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum, che quest'anno si svolgerà presso il centro espositivo del Savoy Beach Hotel, rappresenta un luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale e dal patrimonio, un'occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli operatori turistici e culturali, per gli appassionati ed un'opportunità di business.